torniamo nuovamente a parlare dell'applicazione foto per ios in questo video penso breve vedremo la gestione degli album normale quelli condivisi andremo a vedere come si creano ovviamente come si cancellano come si rinominano ecc molto utile come funzione perché ovviamente abbiamo visto anche la ricerca tramite giorno mese anno e i filtri però andare a creare un album e poi ovviamente inserire quest'albo all'interno di cartelle rende tutto molto più semplice andiamo a vedere prima di andare avanti vi chiedo ovviamente di iscrivervi al canale assieme della campanella se volete ricevere notifiche dei video che posterò in futuro andiamo a vedere di cosa si tratta ho visto nel scorso un video dedicato all'applicazione foto come si gestivano e come si distinguevano tutte queste categorie come si cercavano le foto eccetera eccetera abbiamo visto che si possono cercare ovviamente tramite questi flag queste prime filtri anno mese giorno oppure andando a cercarli con i filtri che sono all'interno di foto ma una diciamo una categorizzazione una cosa più precisa sicuramente viene data dagli album perché ovviamente abbiamo la possibilità di andare a come dire proprio fare delle categorie ok utilizzando gli album abbiamo già visto anche la differenza meno lo spiegato la differenza tra gli album diciamo tradizionali e quelli condivisi quelli condivisi sono gli album che possiamo condividere con altre persone ok anche se non hanno ovviamente un un apple un dispositivo apple mentre i miei album sono quelli che sono residenti sul dispositivo ecco la storia non cambia per iphone sono solamente che abbiamo visto solamente sono sotto quindi vediamo qui per avere una come dire una visione più ampia quindi vado sui miei album clicco su tutti gli album e vedete che viene fuori ovviamente vengono fuori tutti gli album che ho creato compresi ovviamente i recenti a questo punto io posso andare sì qua sotto a selezionare l'album che voglio ok no ovviamente posso andare qua a fare più vado a fare più e posso ovviamente andare a diciamo creare una cartella o un album una cartella è un un altro contenitore dove è possibile diciamo contenere degli album ok quindi vado a fare una cartella testa adesso ok e vado su modifica vado su più cercando che sta giocando quindi il rumore che sentite lui e posso creare un album all'interno di questa di questa di questa cartella ma noi lo andiamo a far fuori comunque sappiate che possiamo creare ok album all'interno di cartelle per avere una sottocategoria ok chiamiamo le categorie e sottocategorie andiamo indietro innanzitutto vi faccio vedere che cliccando lungo si può andare a rinominare la cartella o eliminare la cartella stessa adesso andiamo a creare un album quindi facciamo più ovviamente si possono anche aggiungere le foto all'interno degli album adesso vedremo tutto andiamo a creare un album e lo chiamiamo non lo so chiamiamolo genova ok una volta dato il nome ovviamente dobbiamo crearlo e abbiamo il nostro album che richiede ovviamente l'inserimento di foto quindi posso andare sicuramente a cercarle come voglio ma cosa più semplice sicuramente è mettere il luogo quindi genova porto non so quello che volete e andare a selezionare ok le immagini che volete inserire ok in questa in questo album una volta selezionate le immagini mentre potete andare anche con il dito ok a selezionare le tante e possiamo fare aggiungi e il mio album verrà popolato ok diciamo è creato con quello che io ho inserito possiamo andare a vedere abbiamo tutti i comandi che abbiamo già visto ok qua abbiamo tutti i comandi filtri tutto il resto e abbiamo anche la possibilità ovviamente di aggiungere ok delle foto al nostro albo che abbiamo già creato cliccando sul tasto più vedete che viene richiesto di nuovo il ovviamente la possibilità di andare a inserire delle foto vediamo inserire il babati di sori che non è lo stesso però facciamo aggiungi e ovviamente cliccando lungo possiamo andare anche a limì a eliminare la foto stessa da quest'album infatti c'è scritto qua rimuovi dall'album e non verrà eliminata ovviamente dal vostro lino fotografico quindi potete cliccare indietro e godervi il vostro album cliccando nuovamente lungo sull'album ovviamente possiamo cosa possiamo fare possiamo andare a condividere le foto queste verranno selezionate tutte quindi possiamo andare a condividere dove vogliamo oppure ancora possiamo andare ad aggiungere una foto vedere la mappa dove sono posizionate queste foto ok quindi la cosa molto molto interessante riprodurre un video ricordo cosa vuol dire vuol dire che il nostro sistema operativo incomincerà a farvi vedere ok le foto come un video quindi una cosa molto carina non so perché non parta ecco lì è partito quindi possiamo andare a condividere il nostro album su uno schermo e far vedere quello che vogliamo basta tirare giù col dito e si esce poi possiamo andare sempre lungo e andare ovviamente a rinominare l'album se vogliamo ovviamente non so invece di Genova ovviamente mettere centro storico e infine possiamo andare a eliminare l'album ecco l'album eliminerà si eliminerà solo l'album ma le foto non verranno ovviamente cancellate va bene dal nostro diciamo dispositivo ecco se avete ovviamente condiviso le foto su iCloud questi album ritroverete sugli altri dispositivi passiamo a vedere un attimino in dettaglio invece gli album condivisi l'album condiviso funziona alla stessa maniera andiamo su tutti gli album abbiamo anche qua più ecco la cosa che cambia da iPhone a iPad che nel più abbiamo tutto ok invece qua sono divise da categorie qua mettiamo o facciamo condiviso ok andiamo a creare avanti ovviamente qua ci verranno chieste le persone che vogliamo inserire io mi inserirò io vediamo ecco mi inserisco io ok andiamo avanti e a questo punto anche qua potremo andare dentro vedete che c'è proprio il simboletto che io sono stato chiamato e qua possiamo andare aggiungere anche qua le nostre immagini ok video ovviamente anche non solo immagini video e quindi questo questo album verrà condiviso con me perché abbiamo già visto ecco possiamo anche metterci una descrizione e pubblicare l'album quindi pubblica adesso volevo farvi vedere una cosa andando indietro ovviamente ecco vedete poi nella lista lo sappiamo che compariranno gli album che creiamo se io vado lungo adesso qua non disteso per terra ma lungo e vado qua invita intanto posso andare a invitare un'altra persona se voglio oppure posso andare a cancellare quella che ho messo ma io non ci sono perché giustamente sono io quindi se ne è accorto ok qua possiamo pubblicare invece l'album che poi è visibile a tutti tramite un link quindi vedete che anche gli album condivisi possono essere utili per far sì di condividere magari con una persona cara o con un team dei lavori o delle foto anche qua la stessa cosa lungo possiamo andare ovviamente a eliminare a cambiare foto a condividere aggiungere e rinominare oppure eliminare il l'album stesso ho detto due volte eliminare ma volevo dire rinominare quindi vedete che anche qui abbiamo praticamente una una bella gestione anche dell'album condiviso bene ragazzuoli avete visto come semplice creare un album per avere sotto controllo ovviamente le nostre foto i nostri scatti più belli e fare una specie di categorie e sotto categorie perché possiamo fare una cartella all'interno ci possiamo mettere tutti gli album che vogliamo quindi ho creato Genova possiamo fare una cartella Genova e poi all'interno mettere centro storico non so Genova Foce Genova Mare quello che è quindi molto carina la gestione molto utile per ordinare i nostri scatti bene ragazzi se questo video vi è piaciuto condividetelo con i vostri amici e infine vi chiedo se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro con questo è tutto ci vediamo alla prossima